E' venuta a mancare una delle persone più importanti del mondo del volontariato, anche per quello che ha fatto in questi anni anche trascorsi e soprattutto perché è stata sempre presente. Assolutamente, purtroppo la perdita di Suor Rosalba sarà una perdita per tutta la città di Arezzo, sicuramente per Casa Tevenin dove era uno dei suoi gioielli, Casa Tevenin e Caritas le aveva diretti e diretti alla grande. Purtroppo questa malattia brutale in questo 2020 drammatico ci ha portato via anche Suor Rosalba, con lei se ne va veramente un pezzo di Arezzo, un pezzo di solidarietà, un pezzo di carità. Io ho detto anche ai colleghi che non conosco persona che impersonificasse meglio la parola carità come era Suor Rosalba, un aiuto sempre disponibile per i poveri, per i più deboli, per gli emarginati, per chiunque aveva un sorriso, una parola, un dono, un pensiero, una preghiera, una persona che ci mancherà tanto. Ricordo i primissimi giorni dopo la mia nomina al Tevenin che mi illustrò tutta quella che era la struttura del Tevenin e mi diceva Sandro qui c'è solo una cosa importante, il futuro di questi ragazzi. E con lei che le accompagnava, le aiutava, cercava lavoro per loro, cercava anche due soldi ma semplicemente per aiutarle per un futuro migliore. E un giorno proprio con una di queste ragazze mostrò tutta la sua fierezza nell'essere riuscita a trovare a lei un impiego. È stato veramente un momento dei più toccanti sicuramente che ho vissuto da quando ho questo incarico. Si può dire una voce silenziosa lontano dai clamori? Assolutamente sì, è stata la persona nel silenzio in cui se n'è andata e nel silenzio in cui viveva. Lei non amava le luci della ribalta, ogni volta che io la chiamavo in causa mi diceva no deve andare te, deve andare la direttrice, deve andare gli altri membri del Consiglio. Io dicevo ma il tema inizia tu su Rosalba e lei diceva no assolutamente, io non sono niente, sono una poverella che aiuta chi ha più bisogno.